Mostra tutti i pesanti segni della crisi in atto, lo screen sui dati di nuove imprese nel 2008, una cui elaborazione per conto della CNA regionale è stata illustrata stamani dal professor Aldo Ronci. Appena 89 aziende artigiane sono nate nell'ultimo anno, contro le 507 del 2007 e le 408 del 2006. L'andamento negativo ha colpito soprattutto la piccola impresa. L'unico settore in lieve crescita rimane l'edilizia, anche se i primi dati del 2009 segnano un crollo anche in questo comparto. In netto decremento tutti gli altri. Un forte calo parzialmente compensato dalla crescita delle cosiddette aziende non classificabili altrove, rispetto ai settori tradizionali. Sono quel tipo di imprese che non trovando lo specifico codice di attività tra l'elenco, vengono inserite in questo caso. Si potrebbero riferire un po' a tutte le attività, non so, costruzioni, commercio, servizi, eccetera. Però sembra che la maggior parte si possano riferire al settore del terziario avanzato. I tassi di crescita delle imprese nel 2008 sono rimasti leggermente al di sopra della media nazionale, solo nelle province di Teramo e Pescara, valori inferiori all'Aquila e soprattutto in provincia di Chieti, dove il saldo annuale per la prima volta è in negativo. Sempre Chieti, assieme a Teramo, è la provincia in cui nello specifico settore dell'artigianato decresce il numero delle imprese. Un andamento negativo che ribatte il trend virtuoso dell'ultimo decennio sulla vitalità di imprese in Abruzzo e che, secondo la CNA, va fronteggiato con misure indifferibili. Le misure sono per l'artigianato sicuramente la nuova legge che ormai è ferma da più di 13 anni e non è più rispondente alle bisogni delle imprese. Chiediamo un fondo straordinario per i consorsi fidi, perché in atto una stretta creditizia importante da parte delle banche, cioè mancano soldi per le imprese. Chiediamo naturalmente anche un allungamento del debito sanitario, perché quest'anno, il 2009, sarà sicuramente un anno di crisi difficile per le famiglie e per le piccole imprese e quindi quelle maggiorazioni che valgono 140 milioni di euro, quella maggiorazione di tasse, non sono compatibili con una politica di sviluppo.